Oggi puliamo i carciofi. In una ciotola mettiamo l'acqua col prezzemolo, perché il prezzemolo è un antiossidante. Sfogliamo il carciofo, togliamo tutte le foglie esterne, che sono dure, poi con un coltello tagliamo la punta, poi le sfogliamo ancora, togliendo la parte superiore, che è sempre più dura rispetto alla parte interna. Lo facciamo così, giriamo, 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 poi tagliamo anche la parte esterna del gambo, perché l'interno del gambo è molto molto buono e saporito, è tenero. Continuiamo a tagliare, bene, ecco fatto. Adesso lo tagliamo in due, dividiamo il carciofo ed eliminiamo la parte interna, quella barbetta che sta nel carciofo. Lo puliamo bene e lo mettiamo in acqua acidulata. Grazie. Grazie. Grazie.